Iniziamo con la nostra prima riflessione sulla preghiera, la prima scuola di preghiera. Preciso una cosa che ho detto ieri, parlando di scuola di preghiera dobbiamo chiarire chi è il docente, il docente è solo lo Spirito Santo. Non sono io il docente, non sono io il maestro, io sono solo il bidello che fa così, sveglia, sveglia, lo Spirito ha da dirti qualcosa, ho solo da svegliarmi, d'altro niente, perché è lo Spirito che ha da comunicare, lo Spirito che ha da parlare, lo Spirito che ha da lavorare, è Lui, è Lui che fa la scuola di preghiera. E quando avremo qui sul tavolo esposto il Santissimo e io vi dirò sparpagliatevi per la sala, cercate il buco più adatto e mettetevi in ginocchio, lì è il momento più solenne della scuola di preghiera. Non mentre chiacchiero io, io sto soltanto svegliandovi all'attenzione allo Spirito e vorrei chiedervi una cosa come primo sacrificio, che ogni giorno salviate bene le tre ore di adorazione, che sono i tre momenti culmini dello Spirito e che le salviate con grande fortezza. intendo dire non andate a spasso, si capisce che è dilettevole pregare per i viali, ma è l'Eucaristia che ci lavora dentro. resistete un'ora intera con l'orologio, ed è bello che c'è molto di più di un'ora. Allora, chi vuole fa di più, ma chi vuole avere il tempo contato, conti anche con l'orologio, non rubate niente a quell'ora davanti all'Eucaristia. Lì è il momento del lavoro profondo dello Spirito e voi dovete arrivare alla sera e poter dire, ecco, le tre ore sono salve, le tre ore le ho fatte bene, perché avete salvato le tre scuole di preghiera che vi ha fatto lo Spirito. La scuola di preghiera comincia quando vi mettete in ginocchio davanti all'Eucaristia, in docilità piena a quello che ha da dirvi lo Spirito. E se voi arrivate alla sera e potete dire, ho salvato le tre ore di adorazione, a me sembra che ci siamo. Poi ci sarà ancora la Messa, ma la Messa merita un discorso ancora a parte. La Messa è proprio il fuoco che parte. E le tre ore di adorazione sono la preparazione e la conseguenza della Messa. Allora facciamo le prime riflessioni per svegliarci alla preghiera. Io vorrei questa mattina, come introduzione, interrogare tre grandi maestri. Il primo, un grande maestro di preghiera dell'Antico Oriente, poco conosciuto da noi, ma molto conosciuto in Oriente, San Giovanni Climaco, Poi un maestro di preghiera moderno, che tutti voi conoscete, un monaco olandese, padre Luf. Poi, siccome siamo in mezzo ai pastori, il parroco più santo che abbiamo noi sacerdoti, noi pastori, il santo curato d'Ars. Prendiamo questi tre maestri che ci diano il via per la preghiera. Poi, inizieremo presto a parlare della preghiera del cuore, che è la cosa che mi sembra sia importante. Pochi conoscono a sufficienza San Giovanni Climaco. Era abate del monastero del Monte Sinai. Visse verso il 600. Muore nel 649. Muore dopo aver completato il suo libro sulla preghiera, che è un capolavoro, ma che è poco conosciuto da noi occidentali, è intitolato La scala della divina ascensione. Lui immagina la preghiera come uno scalare la montagna, salire, salire. Probabilmente in questa immagine c'è il fatto che lui era l'abate del monastero del Monte Sinai. E dietro il monastero del Monte Sinai c'è proprio il monte scalato a gradini, fin sulla cima. Dunque, muore improvvisamente verso il 649, dopo aver completato il suo libro sulla preghiera. Il suo libro rappresenta mezzo secolo di esperienza sulla preghiera. Quindi le sue osservazioni sono di un'importanza eccezionale, mi sembra. Lo scelgo anche perché dice delle cose eccezionali. Sentite cosa dice. Non si impara a pregare. È curioso. Noi abbiamo sempre detto che si impara a pregare. E lui dice, non si impara a pregare. Perché pregare è come vedere. Non si impara a vedere. Si vede. Così dice, non si impara a pregare. È come vedere. Si vede per natura e si prega per natura. Così è per la preghiera, dice. Non si impara. Ha in sé stessa il suo maestro. Dio fa il dono della preghiera a chi prega. Dio fa il dono della preghiera a chi prega. E' per questo che vi ho detto. Primo elemento del deserto. E' certo che non abbiate paura a farvi male con la preghiera. Pregare, 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 pregare tutto il giorno. Pregare gran parte della notte. Pregare in tutti gli spazi liberi. E tutte le volte che chiacchierate, dirvi la verità. Sto truffando lo Spirito Santo. Perché questo tempo mi è dato per pregare. E non per gingillarmi. Lui mi ha portato qui per questo. E io devo essere qui per questo. E non devo fare il bambino. Non devo mettermi a gingillarmi col tempo. Non mi è lecito a chiacchierare. Sono qui per imparare a pregare. Devo pregare. Dio fa il dono della preghiera a chi prega. San Giovanni Climaco. Facciamo alcune osservazioni su queste sue riflessioni. Un fatto è in dubbio. Noi mettiamo tanti ostacoli alla nostra preghiera. Anche se la preghiera è una cosa quasi che non ci possiamo dare. Perché sgorga al naturale dentro di noi. Noi mettiamo tanti ostacoli alla preghiera. Ve ne dico alcuni. La nostra incapacità a concentrarci. Non siamo stati formati alla concentrazione. Ne conoscete dei preti che educano i fedeli alla concentrazione? Conoscete tanti parroci che insegnano ai bambini a concentrarsi? Agli adolescenti a concentrarsi? Agli adulti a concentrarsi? E poi si lamentano che non pregano. Ma non hai dato lo strumento. Come fanno a pregare? Se non hai insegnato al giovane a concentrarsi? Non ha lo strumento. Secondo. Un secondo ostacolo. La nostra pigrizia. Noi siamo pigri. Siamo pigri. La preghiera è come lo studio. Se non ti violenti, non studi, eccetto che abbi la passione o un interesse straordinario. Devi violentarti. Noi siamo pigri. Siamo pigri. Faccio questa osservazione. Se il bambino non cammina mai, non imparerà mai a camminare. Noi abbiamo la pigrizia a pensare. La preghiera è come lo studio. Non tutti ne hanno la passione. Ma chi non ce l'ha la passione deve provocarla. Dobbiamo scuotere questa pigrizia. È un grande ostacolo che abbiamo addosso contro la preghiera. Vi dico un altro ostacolo alla preghiera che abbiamo. Terzo. L'abitudine a un rapporto burocratico con Dio. Io ringrazio il Signore che ha suscitato il vostro movimento perché era un bisogno estremo che aveva la Chiesa. Di far crollare il rapporto burocratico con Dio. Un rapporto freddo, innaturale con Dio. E che sfiora sempre, che ci salta sempre fuori, voglio dire. Guardate come maneggiamo il breviario. Come maneggiamo il breviario. Non siamo capaci di metterci il cuore in quel breviario. Come sovente diciamo alla Messa. La Messa è un burattino là che si muove con i suoi apparamenti. Non c'è il calore. Non c'è il cuore. Siamo proprio abituati a un rapporto burocratico. E voi del rinnovamento date scandalo perché non lo sopportate il rapporto burocratico. Vi fate bene a dare scandalo e continuate a dare scandalo più che potete. Però vi dico subito una cosa, un rischio che avete. Noi abbiamo questo tremendo rischio. Siamo abili distruttori dei doni di Dio. e voi potete distruggere il vostro dono, renderlo un guscio vuoto. Voi avete la missione, mi sembra, nella Chiesa, di far vedere com'è bella la preghiera. Ma ricordatevi che se fate solo vedere com'è bella la preghiera non ci siamo ancora. Quello non è ancora la preghiera. La preghiera è oltre queste soddisfazioni, questa bellezza di trovarci insieme, di lodare, di cantare. È oltre, ancora oltre. La preghiera è quando ti converti. Lì comincia la preghiera. E tu puoi giocare a cantare le lodi del Signore e alla conversione, non ci pensi per niente. Ecco il grande rischio che ci può essere nel rinnovamento. Il guscio vuoto. Il guscio vuoto. Un rischio su cui dovete riflettere e tremare. Perché vi può portare molto lontani da Dio, mi sembra. Dunque, non è difficile imparare a pregare. Si potrebbe concludere davanti agli insegnamenti di questo grande maestro orientale. Non è difficile. Però bisogna assolutamente volerlo. Basta, per così dire, assecondare questa vena che abbiamo in cuore, che è la preghiera, e che ce l'hanno tutti. E vorrei fare una parentesi. A voi del rinnovamento, o a voi amici del rinnovamento, voi, devo dire, a voi, se siete nel rinnovamento, o se siete amici del rinnovamento, e perché probabilmente avete ricevuto questo dono. Ma fate ben attenzione che siamo abili guastatori dei doni di Dio. E vigilate sui condizionamenti che voi mettete a questo dono di Dio. Veniamo elencati tre, ma in questi giorni salteranno fuori molti altri condizionamenti. Adesso passiamo al secondo grande maestro di preghiera, il monaco olandese Padre Luff. Attingo dal suo libro Signore insegnaci a pregare, edizione Marietti. Sentite alcune affermazioni di questo maestro di preghiera. Primo, il grande regista della nostra preghiera è lo Spirito Santo. Più noi rinunciamo a dirigere la preghiera per affidarne l'incarico allo Spirito in noi, più diventiamo sensibili alla sua azione interiore, più entriamo nella preghiera, perché i figli di Dio sono quelli che sono diretti dallo Spirito di Dio. Ecco, allora, per favore, prendiamo subito una decisione. In questo deserto che facciamo insieme per imparare a pregare, e io spero che voi non vi offendiate se io dico per imparare a pregare, perché se qualcuno di noi dice io so pregare, sta dicendo una grande sciocchezza. Sapremo pregare in Paradiso, adesso non sappiamo pregare, Arranchiamo per la strada della preghiera. Tutti, più o meno. Qualcuno in modo molto, cammina in modo molto bislacco. Qualcuno non si incammina. Qualcuno cammina per la strada della preghiera in modo molto bislacco. Qualcuno cammina un po' più spedito. E poi ci sono questi maestri di preghiera che fanno da guide alpine, e bisogna ubbidire alle guide alpine, perché in una cordata, se non si ubbidisce alla guida alpina, capitano anche le catastrofi. E allora bisogna pregare molto, che nella Chiesa nascano molti maestri di preghiera. E bisogna che andiate a casa dopo aver chiesto mille volte, centomila volte, di diventare maestri di preghiera. Non è concepibile un prete se non è maestro di preghiera. Se non è maestro di preghiera, cosa dà alla gente? Allora tutti dobbiamo diventare maestri di preghiera. Tutti alla scuola guida. Tutti per diventare guide alpine. Tutti, tutti, tutti. Quando noi facciamo i deserti per i preti e un prete mi dice ah io non ho tempo a pregare un'ora al giorno. Noi mettiamo come conclusione sempre adesso che lasci il deserto ogni giorno un'ora di preghiera e un'ora di teologia. sono i tuoi due doni che devi fare allo Spirito Santo come riconoscenza. Ogni giorno della tua vita un'ora di preghiera al giorno di silenzio davanti al Santissimo e un'ora a sudare sui libri di teologia perché se no non puoi essere un buon prete. E quando incontro dei preti che mi dicono non ho tempo a dare un'ora alla preghiera allora gli dico allora è segno che devi dare due ore prova a dare due ore e poi darai un'ora e poi non lascerai più le due ore. Dunque allora impegniamoci adesso a chiedere molto prima della preghiera in questo tempo qui chiedere molto la capacità di pregare allo Spirito Santo. Allora quando faremo stamattina la prima ora di adorazione ve lo chiedo da questo primo momento il primo quarto d'ora che sia questo esorcizio. vi concentrate sulla presenza dello Spirito in voi e implorate dallo Spirito la capacità di pregare per un quarto d'ora nel silenzio in contatto profondo con lo Spirito Santo. Per un quarto d'ora chiedete di imparare a pregare di essere capaci a fare l'avviamento alla preghiera e poi abituatevi a farlo sempre e abituate la gente a farlo sempre non si può cominciare la preghiera senza lo Spirito Santo non si può cominciare la preghiera senza fare l'accensione voi non non incamminate la macchina senza mettere la chiavetta non immaginate che possa partire senza mettere la chiavetta lo Spirito Santo è questo il pregare lo Spirito prima della preghiera è questo la chiavetta alla tua macchina e poi parti pure ma se non fai quell'operazione è inutile che pensi di partire dunque allora uno dei primi chiodi da fissare nel nostro deserto non posso più adesso cominciare la preghiera se non mi sono immerso lungamente nello Spirito Santo se non ho fatto questo sono partito col piede sbagliato nella preghiera un'altra osservazione di questo grande maestro di preghiera sentite il luogo della preghiera è il nostro cuore se il nostro cuore sonnecchia bisogna eccitarlo ogni sforzo della preghiera dovesse dovrebbe essere ridotto lì svegliare il cuore il cuore è la radice del nostro essere il cuore è la radice e la profondità della nostra grandezza è il luogo della preghiera è il cuore ecco perché facciamo tutto il deserto sulla preghiera del cuore terzo bisogna cominciare a trovare la via verso il cuore per liberarlo e sbarazzarlo da tutto ciò che lo ingombra perché finché il cuore ingombro di pasticci la preghiera la preghiera non si può avviare la preghiera parte dal cuore e il cuore deve imparare a purificarlo e se non parte dal cuore tu parti col piede sbagliato nella preghiera liberarlo sbarazzarlo da tutto ciò che ingombra e padre Aluf padre Aluf dice che sul monte Athos incontrò un vecchio monaco tanto famoso come maestro di preghiera era il monaco più straordinario per la preghiera e lui provò a intervistarlo e gli disse così mi vuole indicare qual è stato il suo cammino per scoprire la preghiera lei che ha cambiato tutta la sua vita in preghiera lei che è arrivata alla preghiera profonda e quel monaco semplice fece un sorriso e poi disse così è stato molto semplice la preghiera dentro di me era coperta da una pietra e arrivato Gesù ha tolto la pietra e l'acqua ha cominciato a correre a sgorgare e non si è più fermata ecco per dire bisogna trovare la via verso il cuore come fare a trovare la via verso il cuore e allora faremo proprio questo questo lavoro durante questo deserto come trovare la via verso il cuore il nostro grande teologo italiano Moioli diceva il cuore è la misura dell'uomo e lo definisce il cuore è la misura dell'uomo e lo definisce e la preghiera deve partir di lì se non parte di lì parte male perdonatevi io ringrazio dell'idea che voi del movimento del rinnovamento avete chiesto un corso sulla preghiera del cuore perché sapete perché perché sovente potete dimenticarvi che la partenza della preghiera è di lì voi che siete arrivati a capire com'è bella la preghiera forse potete essere deviati dalla vera sorgente della preghiera è il cuore il centro della preghiera e questo deserto è scoprire l'origine di dove scaturisce di dove deve partire la preghiera adesso sentiamo un maestro contadino il santo curato d'Ars lui non è né teologo né mistico né è semplicemente un santo parroco che è arrivato ai più alti gradi della preghiera sentite cosa dice il santo curato d'Ars sulla preghiera la tolgo da un catechismo che lui ha fatto catechesi sulla preghiera che lui ha fatto sentite cosa dice questo è il compito dell'uomo pregare e amare e la felicità dell'uomo sulla terra e quando incontro un prete che mi dice è faticoso pregare è faticoso pregare io condivido che è faticoso pregare però è triste quando lo diciamo noi preti ho letto che il venerabile Ollier quando ideò la riforma del clero in Francia a San Suspizio mise questa norma per la riforma del clero il clero deve arrivare prima di tutto a sentire il fascino della preghiera se non c'è quello non può partire e poi lui arrivò a stabilire che il prete che si rispetta deve pregare un'ora al mattino un'ora alla sera oltre alla liturgia oltre alla preghiera con la gente io arrivo da pochi giorni dal Brasile e sull'aereo ho incontrato un missionario tanto assetato di Dio e mi ha detto sono desolato sa perché nella diocese di San Paolo c'era un grande raduno di clero e si alza un prete e dice io non ho vergogna di dirlo davanti a tutti io non prego mai prego con la gente ma non prego mai per mio conto non ne sento il bisogno ecco quando un prete arriva lì siamo allo sfacelo siamo allo sfacelo la nostra felicità è la preghiera e voi dovete essere insaziabili di preghiera e della preghiera di silenzio batteremo fino alla sazietà su questo tema preghiera di silenzio perché l'osso alla preghiera si fa solo nella preghiera di silenzio la preghiera comunitaria è direi la poesia della preghiera ma è difficile che nella preghiera comunitaria tu arrivi al punto conversione al punto conversione tu arrivi quando tu ti metti in silenzio assoluto quando hai il coraggio di smascherarti di togliere tutte le maschere alla tua preghiera e questo si fa solo in silenzio non si fa chiacchierando le maschere ce le togliamo solo in intimità con lo spirito voi sentite cosa continua come continua la preghiera è nient'altro che l'unione con Dio e sentite come spiega quest'unione con Dio l'anima e Dio due pezzi di cera fusi insieme che nessuno può più separare ecco la preghiera è una felicità che non si può comprendere dice il curato d'Ars il vostro cuore è così piccolo ma la preghiera lo dilata e lo rende capace di amare Dio e ci fa pregustare il cielo e non ci lascia mai più senza dolcezza nella preghiera ben fatta i dolori si sciolgono come neve al sole ho cominciato a leggere gli scritti di madre speranza e ho visto che anche madre speranza parla così che quando era tanto desolata si tuffava in preghiera per favore faccio una parentesi andate sovente a fare un pellegrinaggio da madre speranza io ho deciso che mentre sono qui ne faccio dieci al giorno di stamattina ne ho già fatti cinque e vado a chiedere alla tomba di madre speranza la grazia di capire l'amore misericordioso di Dio e di riuscire a insegnarlo chiedete chiedete questa grazia se tornate a casa con questo dono siete a posto dunque madre speranza dice che è nella preghiera che lei scioglieva i suoi dolori e riusciva a portare avanti la sua croce e voi l'avrete tutti tutti sperimentato e nelle prove nelle croci non sono le persone che ci aiutano di più in certe croci è solo 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 il Signore solo la preghiera e stare finché siete nella pace nella serenità nella profondità dell'accoglienza della volontà di Dio stare fino a spezzare il muro bisogna avere quella resistenza lì io mi ricordo che in certi periodi della mia comunità io stavo magari sette ore otto ore nove ore davanti al Santissimo quando avevo delle prove grandi ma quando mi alzavo ero sempre un altro poi sentite ancora cosa dice il Santo Corato D'As ci sono persone forse qui è la sua testimonianza personale ci sono persone che si sprofondano completamente nella preghiera come un pesce nell'onda perché sono tutte dedicate al Buon Dio qui è la sua autobiografia di sicuro non c'è divisione alcuna nel loro cuore vedete che anche lui partiva dal cuore per la preghiera quando andiamo da qualcuno sappiamo sempre perché ci andiamo quando andiamo da Dio qualche volta non sappiamo cosa andiamo a fare anzi sembra che il nostro modo di fare significa adesso me la sbrigo in fretta poi me ne vado ecco da questa osservazione del Santo Corato D'As io vorrei ricavare questa riflessione nella preghiera ci deve essere gratuità e semplicità più c'è gratuità e semplicità più la preghiera è autentica ecco adesso ho finito la prima riflessione sulla preghiera adesso comincia la scuola di preghiera esponiamo il Santissimo vi inginocchiate e le vostre ginocchia sono i vostri maestri di preghiera adesso io vi chiedo essere ferrei nel decidere la fedeltà all'ora di adorazione e voglio dare alcuni suggerimenti pratici per facilitare l'ora di adorazione fate così per favore cominciamo con un canto poi entriamo subito in perfetto silenzio per un'ora dividetevi con l'orologio l'ora in quattro parti il primo quarto d'ora tutto dedicato allo spirito vi immergete nella presenza dello spirito in voi sparpagliatevi per la sala dove vi sembra che preghiate meglio poi il secondo quarto d'ora dedicatelo a Gesù fatelo guardando l'Eucaristia usate meno parole che potete la parola più semplice è Gesù basta quello tutto quello che dite di più è già di più basta Gesù provate un quarto un secondo quarto d'ora tutti immersi nel silenzio guardando l'Eucaristia dovete imparare a pregare con gli occhi padre Foucault diceva io lo guardo e lui mi guarda io lo guardo amandolo lui guarda me amando ecco dovete pensare così e allora un quarto d'ora di preghiera di silenzio guardando l'Eucaristia pregare con gli occhi solo la parola Gesù è già sufficiente poi terzo quarto d'ora immergetevi nella presenza del Padre chiudete gli occhi immergetevi profondamente nella presenza del Padre l'amore misericordioso di Dio vi avvolge completamente e voi immergetevi in questo amore se vi serve usate la parola Padre io uso molto questa parola in questo tempo Padre mio mio tutto e ripeto continuamente questo Padre mio mio tutto poi il quarto quarto d'ora vorrei che lo dedicaste a godere il Signore perché non entri nella mente che la preghiera sia una cosa difficile faticosa dura è molto bello che vi abituate sempre avere uno spazio della preghiera solo a godere il Signore che non entri nella testa che la preghiera è un dovere la preghiera è un bisogno non è un dovere la preghiera è una gioia non è un dovere allora dedicate l'ultimo quarto d'ora a godere il Signore allora avete le poltrone molto comode e avanti godete il Signore vi sedete guardate l'Eucaristia e godete il Signore potreste in quel quarto d'ora lì immergervi nella parola di Dio di oggi il centurione pensate com'è bella quella pagina lì come insegna a pregare è proprio una pagina di scuola di preghiera l'incontro del centurione con Gesù ecco poi io penso che facendo i primi passi nella preghiera così di silenzio avrete le prime difficoltà allora per favore prima di uscire scrivete qualche qualche vostra qualche vostro quesito pratico o sul tema che abbiamo sviluppato oppure oppure di qualche difficoltà inerente alla preghiera di silenzio poi lo infilate in quelle buste che raccolgono i quesiti della preghiera e continueremo quindi la scuola di preghiera nel pomeriggio sotto forma di dialogo rispondendo alle vostre difficoltà se sono capaci adesso mi lasciate ancora dire una cosa ho detto che per far bene il deserto ci vogliono tre componenti primo silenzio assoluto esteriore ed interiore ed esteriore non basta l'esteriore è perché crei il silenzio interiore e il silenzio interiore lo raggiungete quando vi interessate soltanto di Dio e del vostro e del vostro cuore che deve aprirsi a lui quando non curiosate cosa fanno gli altri quando non vi interessate di ciò che capita troppo di interessanti intorno a voi quando non avete tempo a spendere tempo nelle cose che vi circondano questo è il silenzio interiore silenzio esteriore e silenzio interiore poi ho detto la preghiera tanta preghiera tanta preghiera tanta preghiera tre capolavori nella giornata le tre ore di adorazione sulla messa faremo ancora un discorso a parte perché merita proprio un discorso a parte perché è tutto è il centro poi vi raccomando anche l'austerità il deserto senza austerità è un controsenso se non vi scandalizzo vi voglio dire questo cosa ne fate del bar date un calcio al bar per favore non serve il bar al deserto basta l'acqua al deserto avete sete lì ci sono i rubinetti con l'acqua benedetta di madre speranza ci sono i rubinetti bevete lì cosa ne fate del bar cosa ne fate del fumo non vi hanno insegnato che è un danno alla salute cosa ne fate dell'alcol non vi hanno insegnato che fa danno insomma fatevi tutti la vostra regola di austerità personale individuale e cercate però di non estimbervi perché se poi svenite è un guaio però fatevi le regole di austerità perché le regole di austerità sono una componente del deserto noi ai giovani quando fanno il giorno di deserto chiediamo il digiuno completo e digiuno completo sapete cosa vuol dire vuol dire digiuno completo solo acqua 24 ore solo acqua quando fanno il deserto di 24 ore e i nostri quando fanno i 40 giorni di deserto c'è chi fa una settimana intera senza niente solo acqua arriva la fine della settimana la lingua fuori ma al cuore che canta perché il deserto deve essere austero ci deve essere rinuncia se non c'è a voi non vi chiedo questo ma vi chiedo alcune regole di austerità secondo lo spirito come lo spirito di spirito ecco adesso esponiamo il santissimo e cominciamo grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.